Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura la cronaca rapine ai danni di giovani in centro ad Arezzo ci spiega tutto in questo servizio Greta Settimelli. Sono ritenuti dagli inquirenti responsabili di rapine ai danni di minori per questo un 19enne e due minori sono stati denunciati. Il 19enne è stato destinatario anche di un'ordinanza di obbligo di dimora. Le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo diretta da Sergio Leo hanno riguardato una serie di rapine commesse nei confronti di minorenni nel centro storico di Arezzo nelle ore serali dello scorso 20 gennaio. In particolare fanno sapere gli inquirenti sono stati individuati gli autori di quattro episodi grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini di videosorveglianza. I tre solitamente insieme avvicinavano le loro vittime tutte minorenni chiedendo loro di consegnare capi di vestiario o soldi. In alcuni casi alla risposta negativa veniva usata violenza fisica. Tre delle quattro rapine sono state commesse secondo le indagini in concorso mentre un singolo episodio sarebbe da addibitare solo al 19enne. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati alcuni oggetti rubati alle vittime tra questi un paio di scarpe. Nei telefoni cellulari gli inquirenti hanno invece ritrovato dei video in cui i tre si ritraevano dopo aver commesso i reati. Sono stati tutti denunciati e il 19enne è stato anche destinatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Ancora cronaca e ancora un incidente sulle strade aretine. C'è stato uno schianto tra due auto nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 33 nel comune di Cortona. Proprio all'altezza dell'incrocio per le capezzine due auto si sono scontrate e tre le persone coinvolte rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza, ambulanze infermierizzate della Croce Bianca di Monte San Savino e della Misericordia di Cortona e la BLSD di Avis Fogliano. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso che però è ripartito senza nessuno a bordo. Una donna di 32 anni e un uomo sempre di 32 sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Lescotte di Siena. Una donna invece di 70 anni è stata portata in codice verde all'ospedale della Fratta. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia municipale. E ci sono stati controlli a tappeto nelle RSA da parte dei NAS. Ci sono state ispezioni anche nell'Aretino. Vediamo. Hanno toccato anche l'Aretino i controlli a tappeto dei NAS nelle RSA. Le residenze sanitarie assistenziali nell'ambito di una campagna nazionale realizzata d'intesa con il Ministero della Salute. 600 i centri destinati ad ospitare persone anziane o con disabilità in Italia ispezionati. Il risultato è stato la scoperta di case di riposo prive di misure antincendio, abusive o con gravi carenze dal punto di vista sanitario e edilizio. In generale sono state riscontrate irregolarità in 191 strutture, pari al 32% di quelle controllate, e sono state deferite all'autorità giudiziaria 43 persone, ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione medica o infermieristica, detenzione di farmaci scaduti e violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per 12 strutture è anche scattata la sospensione dell'attività o la chiusura. 11 le RSA controllate in Toscana da parte dei NAS di Firenze, che hanno rilevato in 5 di queste lievi non conformità strutturali gestionali. Nessuna di queste però si trova nella provincia di Arezzo. È ancora un incidente stradale questa mattina intorno alle 9.30 nel comune di Arezzo, in località Ripa di Olmo. C'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio, il sessantenne alla guida della due ruote, che nell'urto è stato sbalzato per alcuni metri. L'uomo è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo, con traumi addominale e toracico. Sul posto anche l'automedica dell'ASL Toscana Sud-Est e la Polizia Municipale di Arezzo per i rilievi di legge. E adesso rimaniamo ad Arezzo perché c'è ancora un allarme da parte dei residenti di via Fabio Filzi, dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. Ce ne parla Chiara Sadotti. Si vive in qualche modo un degrado assoluto con quell'asilo che c'è lì dietro. Ci possono stare le nane dentro, c'è una pozza d'acqua ferma. E' uno schifo. C'è proprio abbandonati a noi stessi. Tutto ancora fermo ed abbandonato in via Fabio Filzi con il cantiere della nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo che versa in uno stato di degrado. Guardi com'è. Non è un bello spettacolo da vedere. Speriamo che fanno presto a rimetterlo a posto. Anche per questioni di sicurezza. Sì, quello poi. Quello poi. Sì, oltretutto, insomma. No? Passevano prima a buttarlo giù e ricostruirlo. I lavori erano iniziati nell'autunno 2021. 6 milioni di euro di investimento per trasformare l'ex scuola dell'infanzia Sant'Antonio. Ad aprire lo stop perché l'impresa costruttrice e parte del raggruppamento temporaneo non era riuscita a portare avanti i lavori. Il contratto era stato così risolto ma l'immobile è rimasto in carico e nella proprietà della banca che adesso potrebbe proporre un nuovo soggetto esecutore. Ma nel frattempo il degrado della zona continua ad aumentare di pari passo con la microcriminalità. Guarda, la struttura è una sporcia. Sono all'attesa dello sporciatore. La struttura sarebbe utilizzata anche come rifugio abusivo o per il consumo di sostanze stupefacenti a facilitare l'accesso anche alla rete di protezione del cantiere di Velta dal Vento. La colpa la piglia il vento, la piglia l'acqua e chi la deve prendere non la prende mai. Nuove risorse regionali per lo sviluppo del territorio aretino con lo scorrimento della graduatoria regionale del bando sulla valorizzazione dei luoghi del commercio dichiarano i consiglieri del PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis. Anche i comuni di Anghiari, Chiusi della Verna, Lucignano e Sestino si vedono assegnati importanti risorse per la rigenerazione urbana. In totale saranno oltre 311 mila gli euro che andranno a sostenere i progetti territoriali. Sono risorse che vengono direttamente dalla regione e che hanno come obiettivo quello di rivitalizzare e sostenere lo sviluppo dei comuni sotto i 20 mila abitanti. Per la provincia di Arezzo sono 4 progetti finanziati appunto Anghiari con 138 mila euro per la riqualificazione dello spazio mercatale Le Logge Sestino con 80 mila euro per il potenziamento dell'area mercatale della città Lucignano con 40 mila euro per migliorare l'arredo urbano e gli spazi informativi e Chiusi della Verna con 53 mila euro per riqualificare l'area commerciale di Corezzo. Parliamo adesso della Fiera Antiquaria perché Confesercenti ha chiesto un incontro al Comune per confrontarsi sulle tematiche utili a valorizzare la manifestazione. Vediamo. Un incontro per analizzare lo stato di salute della Fiera Antiquaria, per valorizzarla e per esaminare le esigenze degli espositori e degli antiquari in sede fissa. A scrivere al Comune, alla Fondazione, a Rezzo in Tour e Confesercenti. Riteniamo, spiega la direttrice Valeria Alvisi, che sia utile affrontare alcuni temi relativi ad esempio alla promozione e alla valorizzazione della manifestazione e al tempo stesso essere aggiornati su eventuali attività di promozione già programmate per il 2024. Per questo abbiamo chiesto di incontrare l'assessore Simone Chierici, al quale rinnoveremo la richiesta di costituzione di un tavolo permanente per valorizzare la Fiera. Tra le questioni per le quali l'associazione di categoria ha chiesto un incontro, c'è anche quella relativa al tema della sicurezza e i furti che spesso sono segnalati dagli espositori. È un argomento, spiega Alvisi, sul quale vogliamo confrontarci anche alla luce degli episodi registrati a febbraio e nelle edizioni precedenti. Resta poi il problema di Piazza della Badia e di Via Cavour, zone del circuito della Fiera che continuano a non essere scelte dagli espositori anche dopo la conclusione dell'iter di miglioria e assegnazione dei nuovi posteggi. Secondo Confesercenti, un tavolo di valorizzazione sulla Fiera Antiquaria permetterebbe anche di affrontare questioni sul medio e lungo periodo. Già infatti si pensa all'edizione di fine anno quando la concomitanza con la città del Natale impone la necessità agli espositori di fare un passo indietro da Piazza Grande. Adesso spostiamoci in Valdarno, un ecografo portatile da impiegare nelle cure pagliative a domicilio è quello donato dal Calcit Valdarno all'unità funzionale cure pagliative della zona distretto Valdarno. Un dispositivo che l'associazione da anni impegnata nella raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi impiegati per la diagnosi e la cura dei tumori ha deciso di mettere a disposizione del progetto Scudo Servizio Cure Domiciliari per permettere al paziente di ricevere a casa proprio le terapie per contenere il dolore senza doversi spostare in ospedale. Spostiamoci ad Anghiari, una manifestazione di protesta contro l'installazione di un'antenna di telecomunicazioni proprio in città. L'incontro è fissato per sabato prossimo, 2 marzo, alle ore 16, in località La Gattina, in prossimità del cantiere, lungo la strada che dal centro abitato conduce al Carmine. L'antenna oggetto della protesta sarà collocata esattamente sul crinale in cui corre la strada che conduce al santuario del Carmine e quando sarà installata raggiungerà l'altezza di 24 metri. Il comitato spontaneo di cittadini che ha indetto la protesta spiega di voler rendere evidente la sua contrarietà non solo per la prossimità alle abitazioni che esiste, ma soprattutto per lo scempio al paesaggio che è destinata a provocare. Tanto più evidente in una cittadina che si vanta della bandiera arancione di essere città slow e annoverata tra i più belli borghi d'Italia dice appunto il comitato. E stasera invece alle 21 torna a educazione civica e a salire in cattedra per le lezioni organizzate dall'associazione tra Tevere e Darno Roberto Rossi per anni alla guida della procura di Arezzo e oggi procuratore generale di Ancona. Lo vedremo proprio subito dopo il nostro telegiornale alle ore 21. Ma vediamo adesso un estratto. L'ultimo attentato terroristi, l'ultime vittime del terrorismo sono state qui ad Arezzo. Marzo 2003. È una domenica mattina. Io quel giorno ero il magistrato di turno, cioè il pubblico ministero che si deve occupare delle emergenze, mi chiamano e mi dicono una sparatoria morti e feriti a Castiglio Fiorentino. Per 22 anni è stato in prima linea rappresentando in tribunale la procura di Arezzo che per 8 anni ha guidato come procuratore capo. Decine e decine i casi dei quali si è occupato, molti di questi hanno fatto la storia della provincia di Arezzo e non solo come le indagini per lo smantellamento dell'ultima cellula dell'EBR. Gli ultimi terroristi sono stati arrestati grazie a queste indagini. Fine del terrorismo. Roberto Rossi è salito in cattedra al liceo Benedetto Varchi di Montevarchi per le lezioni di educazione civica organizzate dall'associazione Tratevere Arno. Come lo Stato Democratico può reagire all'emergenza terrorismo il titolo dell'incontro. È il dottor Roberto Rossi attualmente procuratore generale a Dancona già come coloro che ascoltano sicuramente già sapranno procuratore capo di Arezzo e se posso aggiungere anche un amico. La materia di cui parlerà il dottor Rossi la spiegherà lui stesso. Parleremo di terrorismo di cosa ha rappresentato il terrorismo in questo paese anche perché il terrorismo ha avuto un episodio ahimè drammatico proprio nella provincia di Arezzo è l'episodio che portò all'uccisione di Emanuele Petri quindi è bene che questi ragazzi sappiano cosa c'è stato sappiano cosa è stato il terrorismo e sappiano qual è stato il sacrificio di coloro che si sono posti a questa violenza ed hanno difeso la democrazia nella quale essi vivono anche grazie al sacrificio di queste persone. Per i nostri ragazzi poter mettersi a confronto ascoltare le parole di chi vive in prima persona le istituzioni è veramente una ricchezza e un regalo che l'associazione Intratevere Arno ci ha fatto alla nostra scuola. Tra i prossimi appuntamenti anche uno dedicato alle donne che nell'aretino hanno ricoperto ruoli molto importanti. Farò una lezione sull'articolo 3 della Costituzione ma mi sono concentrata sulle donne importanti di Arezzo nella storia che hanno conseguito un primato per cercare di non andare troppo nel generico siccome molte delle lezioni sono di studio del territorio ho fatto questa ricerca su queste donne dell'aretino. E adesso spostiamoci in Valdichiana Cortona con Memora Emanuele Petri il sovrintendente della Polfer di Teronto l'ha ucciso in servizio sul treno Roma-Firenze all'altezza di Castiglione Fiorentino durante un controllo di due viaggiatori poi rivelatesi terroristi delle nuove Brigate Rosse. L'iniziativa pubblica di Cortona è in collaborazione con la questura di Arezzo sabato alle ore 9 si terrà l'appuntamento nel parco di Camucia intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso dai terroristi e si terrà una cerimonia a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare dopo i saluti delle istituzioni coinvolte comune di Cortona prefettura e questura di Arezzo saranno deposte una corona al monumento dedicato al sovrintendente capo della Polizia di Stato medaglia d'oro al valore civile e torniamo ad Arezzo dove si parlerà della salute del trasporto ferroviario toscano locale venerdì primo marzo alle 17.30 alla Fettrinelli Point di Arezzo con la presentazione di Pendolaria 2024 il rapporto annuale di Legambiente che fotografa la situazione del trasporto ferroviario in Italia un'occasione per analizzare i dati che emergono dal rapporto di Legambiente e che vedono la Toscana promossa per numero di treni 257 che compongono la flotta regionale seconda in Italia dopo la Lombardia e per età media dei treni bocciate invece per le linee dell'area meridionale della regione altra nota dolente riguarda le linee non attive da anni sospese o cancellate come la Siena Arezzo Perugia non attivata all'incontro interverranno Gabriele Nanni dell'ufficio scientifico di Legambiente curatore del rapporto pendolaria e Lorenzo Cecchi responsabile della mobilità di Legambiente Toscana un altro appuntamento in città è quello della rassegna ACRI Live Festival con Franco Cardini in servizio quindi allora che cos'è l'Occidente l'Occidente è una realtà a struttura a geometria variabile per così dire varia col variare della storia e anche della geopolitica un pomeriggio per approfondire il concetto di Occidente tra passato presente e futuro la seconda edizione della rassegna ACRI Life Festival ha preso avvio al circolo artistico con la presentazione del libro La deriva dell'Occidente assieme all'autore Franco Cardini uno tra i più importanti ed autorevoli studiosi della storia italiana è un libro profetico che ci in qualche modo fa capire come questa assenza questo smarrimento della nostra cultura sta un po' lasciando il mondo alla deriva nel libro il professor Cardini cerca di comprendere se la definizione di Occidente abbia ancora senso o se oggi sia utile solamente per ragioni strumentali è difficile dire che cosa siamo è naturale che ogni tanto si fanno delle sintesi culturali che servono non agli individui ma alle comunità e quindi noi possiamo dire che come occidentali come facenti parte di una cultura e si riconosce grosso modo nel bacino mediterraneo nel cristianesimo una civiltà greco-romana noi evidentemente siamo stati visitati spesso da altra gente che veniva dall'Oriente e che ci hanno lasciato tantissime cose senza l'Islam per esempio ci mancherebbe tantissimi segmenti della nostra cultura dalla matematica fino all'astronomia e via discorrendo gli esseri umani non sono isole in esposizione nel Palazzo della Fraternita dei Laici al fianco dei bronzi di Giancarlo Fulgenzi anche le opere di Silvia Peruzzi e Luigi Raimondi vediamo non solo i bronzi del maestro Giancarlo Fulgenzi ma anche le opere di altri due artisti in mostra al Palazzo della Fraternita dei Laici quelle di Silvia Peruzzi e di Luigi Raimondi sono qui ospite alla Fraternita dei Laici invitata dal maestro Giancarlo Fulgenzi amico e diciamo grande maestro per me lui mi dà quotidianamente dei consigli e stimoli insomma sulle cose anche da migliorare da fare e ultimamente mi ha insegnato a lavorare anche la resina su vetro quindi un grande maestro senza età l'ultimo dipinto che ho fatto a Olio è proprio il ritratto dedicato a Giancarlo ci tenevo molto a questa ultima opera le maschere vengono prima di Venezia la Commedia dell'Arte la Francia il nostro teatro e poi ci sono tante maschere che girano che neanche ce ne accorgiamo almeno le mie sono evidenti hanno lavorato in teatro questa è stata la mia la mia cultura la mostra sarà visitabile fino al prossimo 9 marzo tutti i giorni dalle 10.30 alle 18 e questo era anche il nostro ultimo servizio io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci